Erano passate a malapena 24 ore dalla rapina al negozio di scarpe di Castelvetro quando ieri sera un bandito solitario è entrato in azione mettendo a segno un colpo alla farmacia. L'uomo è entrato da una porta laterale e ha puntato una pistola contro farmaciste e clienti. Sette persone che di fronte al rapinatore incappucciato con passa montagna si sono immobilizzate. L'irruzione è stata a fulmini e al malvivente agito in pochi minuti, prima intimando i presenti di consegnargli tutti i contanti della cassa, poi decidendo di agire da solo e riprendendosi direttamente il cassetto. Prima di fuggire dallo stesso ingresso da cui era entrato ha detto che i soldi gli servivano per sfamare i suoi figli. Forse parole pronunciate a caso, forse la giustificazione di una persona davvero disperata, mossa dalla povertà. Il rapinatore è fuggito a piedi, probabilmente qualcuno lo attendeva a motore acceso per la fuga. La prima stima del bottino è di circa 700 euro. I carabinieri di Castelvetro hanno eseguito i rilievi del caso e dato il via alle indagini.